Questa sera, l'inaugurazione della mostra, con qualcosa di molto particolare. Voi tutti sapete che l'organizzazione, diciamo, fisica che serve su queste manifestazioni che è l'Arca del Forno. All'Arca del Forno, fin dal suo infizio, è stata costituita, nel suo obiettivo, dalla maggioranza dei cambieri. E qui abbiamo due simili componenti, amba le spaziali del Fornova, che sono dei commentatori dell'Ordine Bellosi, e il primo, 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 il primo. E siamo qui perché abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi stasera il grande migliore d'Italia, William Egibi, per una cerimonia particolare, una cerimonia che riguarda la nostra commenta, la commenta di Sant'Emilio, che è preparata. Purtroppo manca, per ragioni anche di stanza di Mario Mercurio, per cui ha venuto fortemente questa commenta, e io indegnamente devo rappresentarla. Abbiamo fatto un dono alla commenta, un dono che adesso, prego, il nostro grande priori, di scoprire e celare, in modo che poi vedremo tutti i segni di cosa si fa. applausi Come vedete, questo è il statuario, è diventato il simbolo della nostra commenta, con dei riferimenti di Sant'Emilio, che è la rete, che è la dea cupra, mentre la parte posteriore ci sono i simboli del CCI, significa i dei paioieri, i crociati internazionali e la confederazione, e un vicio, perché voi tutti sapete che era noi, dopo non c'è più con noi moltissimi anni, quello che ci ha portato nella cavalleria, è un giampaolo del CCI, che ha funzionato l'amica di più e meno creativo, e che abbiamo dedicato il bagno della romella. La scultura è una mia opera, una parte dell'opera è stata costruita sui modelli del maestro e da una tantissima esperienza. Bene, ora dopo tutto questo... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.